Io vorrei cominciare dal mio rimpianto, dai giorni in cui sembrava che Nicola Gratteri potesse diventare Ministro di Grazia e Giustizia. Ho letto che hai avuto un lungo colloquio con l'allora Premier. Cosa vi eravate detti? Qual era l'obiettivo? Qual era la prospettiva del Nicola Gratteri, Ministro di Grazia e Giustizia? Allora la storia nasce così. Io conoscevo Del Rio quando era sindaco Reggio Emilia perché noi con il professor Unicaso da tanti anni ormai andiamo in Emilia Romagna, lui segue una settimana, andiamo in giro in tutti i paesi per dire che lì c'era l'andrangheta, che lì c'era un problema andrangheta. Prima ancora dell'indagine Emilia nessuno ci credeva che c'era l'andrangheta in Emilia Romagna e in quell'occasione ho conosciuto Del Rio, sindaco di Reggio Emilia e in un anno mi ha regalato e ci ha regalato la bandiera d'Italia perché voi sapete che la prima bandiera d'Italia è nata a Reggio Emilia e quindi c'era questo rapporto con Del Rio. Un giorno tornavo da Roma e atterrato a Reggio Calabria vedo un numero sconosciuto, no dalla batteria, dice c'è il ministro Del Rio perché allora Del Rio era ministro del governo Letta, dice dottore dovrei parlarle se può salire a Roma, dico guarda io adesso sto atterrando, come salgo a Roma? No dice deve salire, deve salire subito, ma guardate che qua non ci sono aerei, comunque gli ho detto vedo se riesco a trovare qualcosa e sono andato, ho visto di pomeriggio verso le 16 c'era un aereo dalla Mezzia che porta a Roma e dici guardi io non sapevo nemmeno dove era questo ministero, mi pare che con rapporti col Parlamento, con le regioni, una cosa del genere ed era in una viuzza, comunque eravamo nel centro storico, riusciamo a trovare questo ministero, vado lì entro nella stanza di Del Del Rio e trovo Renzi, trovo anche Renzi. Buonasera dottore volevo conoscere la prima volta che incontro Renzi, esattamente siamo la sera prima che lui andasse da Napolitano, ci troviamo lì e dice sa volevo farmi una cacchierata, parlare con lei di giustizia e fa domande su come, quali riforme, quale modifiche io avrei voluto, avrei pensato per abbattere le mafie, cosa pensavo del sistema giudiziario insensolato e poi siamo andati nei dettagli. Io più parlavo più Renzi era entusiasta, direi eccitato, in certi momenti non stava seduto sulla sedia perché io nella mia testa avevo e ho una rivoluzione nel contrastare le mafie, nel far funzionare il sistema giudiziario e lui dopo circa tre ore di dialogo mi dice e lei deve fare il ministro giustizia e dico guardi io non lo so, non penso e poi guardi che io non sono allenato alla mediazione, io sono un decisionista, io sono una persona che faccio il magistrato da trent'anni, ascolto, sono allenato in una giornata, faccio cinque, sei, dieci riunioni con la polizia giudiziaria o con la magistrata ma non mi alzo dalla sedia se non ho preso una decisione e quindi a metà frase le persone sono allenate a camminare, a fare, cioè non sono che la mediazione per me vuol dire un accordo a ribasso e per fare le rivoluzioni ci vuole nella testa bisogna avere la guerra, col fioretto non andiamo da nessuna parte, no lei deve fare il ministro, dico ma scusi tutta quella gente lì come queste modifiche guardi che non passeranno mai in parlamento, no mi siederò io da fianco a lei in parlamento perché queste riforme devono essere votate eccetera eccetera, dice lei dove vuoi fare, si fanno le undici, mezzanotte quasi, io non avevo un albergo, non avevo niente, vabbè mi trovo a stare albergo, la mattina dopo scendo a Reggio Calabria di dieci e mezza, dico guardi se io ho carta bianca rispetto a quello che ci siamo detti, il pomeriggio durante il giorno era poi la gente parla, chiacchiera, tutti già i giornali, c'erano più di mille messaggi, si è bloccato il telefono che tutti volevano sapere, alle 15.45 ricordo mi chiama Del Rio, dice dottore le passo il presidente, mi passa Renzi, dice senta lei è il ministro della giustizia, siete otto donne e otto uomini, ma non è che poi lei si tira indietro, dico guardi il presidente io sono una persona di parola, se noi rimaniamo come si rimane stanotte va bene, allora io procedo, dopo più di un'ora, perché là c'erano tutti nell'ufficio che facevano il tifo, sembravamo che si vedevano la partita, invece di essere la partita c'era sto schermo di sta porta che non si apriva, allora ho detto ai miei collaboratori stanno litigando per me, no che dico, perché loro erano andati dal presidente della Repubblica dovevano uscire da quella stanza, quando è passata un'ora e mezza non uscivano, dopo un'ora e mezza mi chiama Del Rio, dice dottore le volevo dire che qui c'è il presidente che non vuole per lei, dice che lei è un magistrato troppo caratterizzato, io ho risposto guardi non state a litigare per me, non vi preoccupate, non ci pensate assolutamente, vi ringrazio è chiuso, da una parte ho fatto un sospiro di sollievo perché io amo in modo viscerale questo lavoro, però dall'altra mi sarebbe piaciuta l'idea di fare una rivoluzione, cioè di smontare il codice penale, il codice penale, l'ordinamento penitenziario, la geografia giudiziaria, cioè fare una rivoluzione, quello che serve per creare il giro di boa, per fare una rivoluzione. Se mi può permettere, ma secondo lei il problema del presidente della Repubblica fu il fatto che lei era un magistrato o lei era un magistrato troppo caratterizzato? La seconda, c'era Mancuso, era magistrato quando è stato ministro della giustizia, allora i generali dell'esercito che sono diventati ministri della difesa, i medici, i professori universitari in medicina che sono diventati ministri della sanità, la logica è quale? Dobbiamo mettere un non addetto ai lavori per quel lavoro? La storia però non si fa con i sei, però io una riflessione la farei. Lei ha ripetuto in fondo una cosa che dice anche con Davigo, con cui lei molto spesso in realtà discute, che voi magistrati non siete adatti a fare politica perché non siete abituati a mediare. Realisticamente, quanto pensa che sarebbe durato? No, io guardi, io sono così come mi vedete, cioè non ho problemi. Io sono la persona che sarei andato in Parlamento e avrei detto come stanno le cose e nel momento in cui una persona viene e mi controbatte, mi viene controbatte sul piano sostanziale, sul piano dei fatti, non con la filosofia.